Buonasera a tutti, siamo con Tommaso Gravaglia. A che dimmi aggiungi i danni? Ah, che partita ragazzi? Tira in molla fino al secondo tempo, dilagato poi? Sì, 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 beh allora ci siamo passati in vantaggio, poi il pareggio ci ha un po' scasato, poi però siamo riusciti nel secondo tempo a rimanere fuori, poi a parte il gol sono contento per dai punti. Beh ragazzi, squadra giovanissima, prima volta. Per tutti questi anni, oggi i giovani danni! E' una partita, quindi sei segnato, sono segnato, tre gol non ne aspettavo neanche e... Ballone a casa! Ballone! Ragazzi, sei meritato pubblico, grazie mille, premi appunto per l'uomo partita, grazie mille, ancora, un bocca al lupo per il resto del campionato e buona serata, grazie mille, ciao!